Ad agire una squadra di malviventi con le idee chiare sul proprio obiettivo. Sono entrati in azione di notte, sicuri di non essere visti e nel giro di poche ore hanno portato via tutto ciò che di valore avevano davanti. Mobili, cucina, infissi, nulla è stato risparmiato. Un danno da circa 100.000 euro che ricadrà quasi interamente sugli attuali custodi dello storico locale etranese La Lampara, chiuso da nove mesi in attesa che si faccia chiarezza sul suo futuro. L'ultimo spettacolo ospitato prima di un declino lento ed inesorabile fu quello di Gerri Calà lo scorso 21 aprile, ma c'è stato un tempo in cui La Lampara poteva annoverare tra i suoi ospiti il meglio della musica e dello spettacolo italiano, da Mina a Lucio Battisti, da Gino Paoli a Pippo Baudo, un passato glorioso a cui tutta la città ha sempre mostrato grande attaccamento. Il locale è di proprietà comunale, ma l'iter per l'affidamento della sua gestione si sta rivelando quanto mai travagliato. All'ultima gara indetta dal comune hanno partecipato sullo imprenditori privi dei requisiti richiesti dal bando. Le prospettive sono quelle di definire la vicenda. In realtà un precedente dirigente aveva provato a definirla con un bando di gara che di fatto non è andato a buon fine. Evidentemente è stato pensato anche non bene perché non è che abbia suscitato chissà quali interessi di chissà quali particolari gruppi imprenditoriali, considerando che non stiamo parlando di un bene qualsiasi per la città, ma di un bene a cui la città è molto legata, che ha un nome oramai, si è creato negli anni e ha un'enorme rilevanza. C'è l'idea di proseguire la trattativa con la cooperativa Lavoratori della Lampara, che ha avuto in gestione il locale negli ultimi anni e che attualmente ne detiene la custodia, ma c'è un problema da superare ed è rappresentato dalla vecchia debitoria accumulata nelle precedenti gestioni. L'affidamento diretto e quindi senza indire una nuova gara può avvenire infatti solo se la cooperativa decide di accollarsi anche i debiti lasciati dalla gestione precedente alla loro. Il dialogo tra le parti è in corso e la speranza, spiega il sindaco di Trani, è di chiudere la vicenda attraverso una transazione. Non affidarlo attraverso una procedura ad evidenza pubblica può avvenire soltanto a determinate condizioni. Le condizioni sono che di fatto la cooperativa che lo gestiva prima si accollasse un debito pregresso del precedente gestore, di fatto praticamente andasse ad eliminare ogni tipo di pendenza immediatamente e si accollasse una serie di lavori così come erano previsti anche già nel bando. A queste condizioni si possa aggiungere ad una definizione transattiva, questo però è evidente che lo dovranno dire i dirigenti, lo dovrà dire il mio dirigente sulla base dell'istruttore che avrà compiuto. Penso, gli ho dato un tempo stretto, da qui a dieci giorni massimo si dovrà o definirla in un senso o piuttosto in un altro corumbando che a quel punto dovrà essere scritto in maniera assolutamente diversa e mi auguro possa avere anche un maggior appilla rispetto al passato.